Buongiorno a tutti lettrici e lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibra riparliamo di libri. Oggi è l'ultimo giorno del mese e questo vuol dire che diamo spazio a Indie Books, il progetto di Eleonora Mistortellino che si propone di dare più visibilità e quindi di promuovere le proposte e i cataloghi delle case editrici indipendenti. Ogni mese si sceglie una casa editrice indipendente diversa e ciascuno sul suo canale o sulla sua pagina Instagram parla di un libro pubblicato proprio da quella casa editrice. La casa editrice scelta per questo mese è Polillo e io ho letto se muoio prima di svegliarmi di Sherwood King. La casa editrice Polillo è nata nel 1995 ed è stata fondata da Marco Polillo che dopo aver lavorato per diverso tempo con Mondatori ha deciso di fondare una casa editrice propria specializzata nella pubblicazione di romanzi gialli. Questa casa editrice ha all'attivo in particolare due collane, la collana I Mastini e la collana I Bassotti. La collana I Bassotti raccoglie il meglio dei romanzi gialli pubblicati dall'inizio del Novecento fino ai giorni nostri, mentre la collana I Mastini raccoglie romanzi gialli pubblicati negli Stati Uniti a partire dagli anni venti del Novecento. Quindi se siete amanti del giallo e se siete alla ricerca di titoli particolari, di autori particolari non troppo mainstream, assolutamente dovete spulciare il catalogo di questa casa editrice che vi linko qui sotto. Qui sotto nell'info box trovate anche i link agli altri canali che questo mese aderiscono al progetto e quindi vi invito a recuperare anche tutti i loro contributi. Ma veniamo al libro che ho letto per questa tornata di Indie Books, vale a dire Se muoio prima di svegliarmi, di Sherwood King. Sherwood King è uno scrittore statunitense che ha pubblicato diversi romanzi gialli nella prima metà del Novecento e tra i suoi titoli io mi sono lasciata attrarre proprio da questo perché Orson Welles si è ispirato a questa storia per girare il film La Donna di Shanghai, film che Orson Welles ha interpretato, veste infatti i panni del protagonista e diretto. Quindi, mi sono quindi lasciata attrarre da questo titolo perché mi piaceva l'idea di leggere una storia che avesse in qualche modo affascinato il genio creativo di Orson Welles. Se muoio prima di svegliarmi è la storia di un ex marinaio, Lawrence Planter, il quale fa l'autista per un ricchissimo e stimato avvocato, il signor Bannister, che è sposato tra l'altro con una donna bellissima e molto più giovane di lui. Mister Bannister ha un socio, il signor Grisby, il quale un giorno fa a Lawrence una proposta alquanto insolita e curiosa. In altre parole, il signor Grisby chiede a Lawrence di fingere di ucciderlo. Quindi dovrà fingere di sparare un colpo di pistola al signor Grisby, dovrà confessare il delitto, quindi dovrà ammettere di aver ucciso il signor Grisby. Tutto questo perché il signor Grisby vuole far perdere le proprie tracce, quindi non vuole essere davvero ucciso, vuole fare finta di morire per poi fuggire, far perdere le proprie tracce in quanto vuole liberarsi della moglie. Il loro matrimonio infatti è un matrimonio infelice, quindi vuole tagliare la corda e andare a fare la bella vita nei mali del sud. Grisby rassicura Lawrence dicendo che anche se lui si dichiarerà colpevole dal momento che il suo cadavere non si troverà mai, ad un certo punto le accuse contro di lui cadranno e quindi Lawrence verrà necessariamente rilasciato. Per questo suo servizio Lawrence avrebbe ricevuto 5.000 dollari in contanti. Lawrence ovviamente non è poi così convinto di accettare la proposta del signor Grisby. ovviamente teme che qualcosa possa andare storto e del resto come biasimarlo e poi non è convinto delle reali motivazioni che spingono appunto il signor Grisby a voler far perdere le proprie tracce, cioè secondo lui c'è puzza di bruciato. quindi vorrebbe tirarsi indietro ma per una serie di motivi che non vi voglio spoilerare e anche per il fatto che il signor Grisby sa essere particolarmente persuasivo Lawrence decide di attenersi al piano e quindi segue segue le istruzioni che gli sono state date ma il piano come voleva si dimostrare non va esattamente come previsto infatti Lawrence Planter verrà accusato di duplice omicidio perché non solo verrà ritrovato dalla polizia un cadavere ma i cadaveri saranno due. La storia è narrata in prima persona da Lawrence che quindi nella prima parte ci racconta come viene architettato il piano poi come il piano viene messo in atto vi è poi l'arresto di Lawrence la polizia ovviamente lo interroga e poi c'è il suo processo e a fargli da avvocato sarà proprio il signor Bannister vale a dire il socio del signor Grisby. La storia devo dire è molto carina, molto coinvolgente, il ritmo è molto serrato non è un giallo classico nel senso che non c'è il detective che indaga e che raccoglie gli indizi il narratore della storia è proprio Lawrence quindi quando lui si trova in prigione e quindi quando ormai la frittata è fatta diciamo la verità prende forma gradualmente nella sua mente quindi lui arriva passo dopo passo alla verità e lo stesso fa il lettore devo dirvi la verità il finale è un po' prevedibile lo si intravede secondo me fin dall'inizio anche il movente secondo me era abbastanza palese ma comunque la lettura è incalzante, non mancano i colpi di scena quindi è un libro davvero molto carino tra l'altro Sherwood King si distinse quando pubblicò appunto i suoi romanzi tra cui Se muoio prima di svegliarmi per il suo stile molto immediato, molto fresco in effetti sembra di leggere un romanzo contemporaneo a proposito dello stile però ho qualche remora infatti io ho letto questo romanzo nell'edizione del 2011 che ho preso in prestito in formato digitale e purtroppo l'ho trovata piena di refusi innanzitutto ora i refusi mi infastidiscono ma non così tanto non tanto quanto mi infastidiscono i mancati congiuntivi i congiuntivi, questi sconosciuti veramente ci sono delle frasi nella traduzione di questo romanzo della serie io penso che lui è colpevole oppure lei crede che io sono colpevole no, cioè ragazzi no, certe cose non si possono sentire quindi evidentemente qui ci sono dei problemi di fondo per quanto riguarda la traduzione ed è un vero peccato so che questo libro è stato, che questo romanzo è stato ripubblicato nel 2019 quindi spero che nell'edizione del 2019 i refusi ma soprattutto questi errori grossolani siano stati corretti perché è davvero un peccato è davvero un peccato dal momento che come vi dicevo la storia è davvero molto carina il romanzo poi è piuttosto breve lo si legge in un paio d'ore, in due ore e mezza e quindi è un compagno di viaggio ideale è il libro ideale da portarsi in un viaggio in treno o in un viaggio in aereo comunque per trascorrere un pomeriggio di relax quindi spero che questi errori siano stati corretti nell'edizione del 2019 ovviamente poi ho recuperato anche il film il film di Orson Welles è del 1947 e diciamo che è liberamente ispirato alla storia di Sherwood King è liberamente ispirato a se muoio prima di svegliarmi ci sono molte differenze tra il film e il libro comunque anche il film è molto godibile ovviamente si tratta di un film della fine degli anni 40 quindi però carino molto carino anche il film bene ragazzi il video di oggi finisce qui lasciate un pollice in su se siete arrivati fino alla fine e mi raccomando se già non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati con i miei contenuti io vi mando come sempre un bacione un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video ciao